Adesione alla città metropolitana di Catania è il tema che sarà dibattuto domani alle 9.30 durante la conferenza dei capigruppo consigliari promossa dal presidente della Sise Civica, Alessandra Ascia. Subito dopo è previsto un incontro presso l'aula consigliare con il professore di scienze politiche dell'amministrazione Renato D'Amico dell'Università degli Studi di Catania e con l'avvocato Giacomo Ventura. Ai due professionisti sarà chiesto un parere in merito alla legge regionale 15 del 2015 in tema di liberi consorzi e città metropolitane. Questa mattina a Catania è previsto un vertice con i sindaci di Gela, Niscemi e Piazza Armerina sull'adesione della città del Golfo alla città metropolitana che fa fede al capoluogo Etneo. Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, così come ribadito ieri da Filippo Franzone, ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di convocare al più presto l'assise civica. È compito proprio dei consiglieri dire sì all'emigrazione, ci vuole, lo ricordiamo la maggioranza, 16 voti. Se si deciderà per il sì, Gela si staccherà dall'ex provincia, ora libero consorzio di Caltanissetta, rispettando la volontà popolare manifestata il 13 luglio del 2014 ed assecondando la delibera dell'aggiunta messinese. Parere diametralmente opposto a quello del sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo. Il lavoro che abbiamo fatto in questo ultimo anno è quello di superare gli ormai anacronistici campanilismi per cercare di fare sistema. E io credo che la nostra provincia, dentro un'idea di area vasta della Sicilia centrale, che comprende anche Enna Grigento, può rappresentare un'opportunità di crescita non indifferente. Ora, in questa idea di provincia è chiaro che Gela non può non essere compresa, perché Gela è una realtà importantissima, sia per la sua posizione geografica, quindi l'area portuale, sia per la sua storia, soprattutto per chi punta sul rilancio turistico e del recupero post-industriale della città di Gela. Quindi io credo che questo è un momento molto delicato, molto importante. È l'appello che faccio, chiaramente, alle forze politiche, ai consiglieri comunali, ma anche ai cittadini di Gela, di valutare se una scelta di questo tipo in realtà rappresenta un vero e proprio rilancio per Gela o quando invece sia più importante che Gela resti parte integrante di una provincia che sta disegnando e sta costruendo una prospettiva futura. Nell'idea che stiamo condividendo ormai da tempo con tanti sindaci, ogni città ha la sua storia, il suo ruolo, è una risorsa unica e ripetibile. Allora, io credo che quello che ha spinto, io comprendo anche il senso di chi ha voluto cavalcare l'onda della separazione dalla provincia di Caltanissetta, io credo che quelle logiche siano ormai abbandonate. E infatti mi sono sorpreso nel vedere qualche deputato regionale che con l'idea di disgregare questa provincia ha voluto sollecitare un campanilismo che ormai fa parte del passato. Oggi sono i sistemi che sono vincenti. E io credo molto nel mio territorio e credo molto che Gela può avere un vantaggio enorme a far parte di questo sistema e tutta la provincia avrà un grande vantaggio ad avere Gela, che è una città importantissima all'interno del nostro sistema.